Sono 17.574 i nuovi contagi da Covid-19 accertati a livello nazionale, di cui 1.070 in Sicilia, in base all'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. In provincia di Caltanissetta, nelle ultime 24 ore, si sono riscontrati 48 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 14 sono di Caltanissetta, 13 di Gela, 5 di Butera, 5 di San Cataldo, 4 di Niscemi, 2 di Santa Caterina, 2 di Serra di Falco, 2 di Mussomeli e 1 di Vallelunga. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Niscemi, 1 di Vallelunga e 1 proveniente da fuori provincia. Dalla degenza ordinaria sono stati dimessi un paziente di Riesi e 1 proveniente da fuori provincia. Risulta deceduto un paziente di Caltanissetta positivo al SARS-CoV-2. Sono invece 109 i guariti, 30 di Gela, 27 di Caltanissetta, 14 di San Cataldo, 6 di Niscemi, 5 di Butera, 3 di Acquaviva, 3 di Mazzarino, 3 di Montedoro, 3 di Resuttano, 2 di Marianopoli, 2 di Milena, 2 di Mussomeli, 2 di Riesi, 2 di Serra di Falco, 2 di Villalba, 1 di Bonpensiere, uno di Delia e uno di Sommatino.